fino a chiaro ciao a un marendo chi dovresti da essere? ma come non mi riconosci? no sono fabbris fabbris? ma che mi sta a pia per culo avuto? sono un po' dimagrito, un po' stempiato, ma sono fabbris, primo banco a destra ma non c'è però va, tu c'hai avuto un crollo, d'ottavo grado della scala mercalli però e dai non esagerare, sono anche passati 15 anni eppure per me sono passati 15 anni, ma lo vedi come sto? guarda che robetta, io sto in forma smagliante, ma te tu sei sempre lo stesso, non sei cambiato per niente